L'ordine del giorno reca allo svolgimento di interpellanze urgenti. La prima interpellanza urgente all'ordine del giorno è la numero 247 dei deputati Pellicani ed altri concernente iniziative di competenza avvolte ad assicurare la conclusione dei lavori relativi al sistema MOSE. Chiedo al deputato Nicola Pellicani se intende illustrare la sua interpellanza o se si riservi di intervenire in sede di replica. Chiedo di intervenire. Prego, collega. Grazie, Presidente. Credo sia giunto il momento di sapere come il Governo intenda muoversi di fronte ai gravi problemi del MOSE. Stiamo parlando della più grande opera pubblica in corso di realizzazione in Italia. Si tratta di un progetto ideato circa 40 anni fa che personalmente non avrei mai realizzato ma dopo che i lavori sono partiti nel 2003 siamo ormai giunti al 90% dell'opera e sono già stati stanziati e quasi tutti spesi i 5 miliardi e 700 milioni necessari a chiudere i cantieri. Dal dicembre del 2014, dopo lo scandalo che tanto ha umiliato e mortificato la città di Venezia, il Consorzio Venezia Nuova, il soggetto chiamato ad eseguire l'opera, è stato commissariato. La ripartenza non è stata semplice e questi 4 anni sono stati caratterizzati da un rallentamento dei cantieri che ha dato vita anche alla conflittualità con le imprese del Consorzio, in particolare con le principali, mi riferisco alla Mantovani, a Condotte e grandi lavori Fincosit, che attraversano da tempo un periodo di grave crisi che ha comportato anche significativi cali occupazionali. I contenziosi maturati con il Consorzio sono infatti tra le principali cause del blocco dei lavori. Tali contrasti sono stati evidenziati in modo aperto nella lettera che le stesse imprese hanno inviato nell'aprile 2018 al Presidente dell'ANAC, al Ministero delle Infrastrutture e al Prefetto di Roma, denunciando la fase di stallo relativa all'avanzamento dei lavori. Inoltre, per redimere il nodo dei finanziamenti e fare partire i cantieri, nel febbraio scorso, sull'iniziativa del Ministero delle Infrastrutture dell'ANAC, è stato istituito un gruppo di lavoro interistituzionale, ma tutt'oggi non si conoscono gli esiti di questa indagine. Sono inoltre sempre più evidenti diverse strategie tra il provveditore alle opere pubbliche e i commissari del Consorzio, emersi da ultimo anche in recenti articoli di stampa. È fondamentale, perciò, conoscere cosa intende fare il Governo di fronte a un cantiere di tale proporzione, fermo da quasi un anno. È necessario conoscere lo stato di avanzamento dei cantieri e le reali condizioni in cui versano le opere già realizzate, che non essendo soggette ad alcuna manutenzione, sono esposte a corrosione, ad incostrazioni e a tutte le criticità derivate da un sistema delicato che vive sott'acqua, tanto da mettere a rischio anche la tenuta dei cassoni già fondati a causa di fessurazioni, come risulterebbe da uno studio commissionato dal Consorzio Venezia Nuova. Molti cantieri, inoltre alle bocche di porto, sono in stato di completo abbandono. Signor Presidente, di fronte a questa situazione, il Governo ha il dovere di far sapere ai cittadini, in particolare ai veneziani, cosa intende fare. Fino ad oggi il Governo non ha ancora pronunciato la parola Mose. I soldi ci sono, come ha più volte ricordato il Proveditore alle opere pubbliche del Triveneto, Roberto Linetti, ma i lavori non procedono. C'è il rischio concreto che i lavori non si concludano nei tempi stabiliti. In base all'ultimo cronoprogramma fornito dal Proveditore, i lavori dovrebbero concludersi entro il 31 dicembre di quest'anno. E la consegna definitiva dell'intero sistema di opere è programmato per il 31 dicembre del 2021. Vista la paralisi dei cantieri, che per dura da mesi, sarà rispettato questo calendario. È intenzione di questo Governo portare a termine i lavori del Mose. C'è infine un'ultima questione, relativa alla manutenzione e alla gestione del sistema Mose, che in base alla previsione del Proveditore alle opere pubbliche, costerà tra gli 80 e 100 milioni all'anno. Una cifra che, se vogliamo che il sistema Mose entri in funzione, bisognerà mettere a bilancio, ma soprattutto bisognerà decidere chi avrà il compito della gestione e della manutenzione del Mose. Ma se le cose continueranno di questo passo, c'è il rischio concreto che il cantiere non si chiederà mai e il Mose resti la più grande incompiuta d'Europa. Sistema Mose è un'opera segnata, come è noto, da gravissimi episodi di corruzione che hanno generato inchieste, processi, commissariamente e, da ultimo, una nomina di una task force per indagare sulle cause della paralisi dei lavori e far luce sull'intricata vicenda di malaffare. La verità comincia a farsi strada, potremmo così cominciare a parlare di un ritorno alla legalità. Risultano però ancora aperte alcune questioni che richiedono approfondimenti e gli uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, cioè l'ANAC e il Prefetto di Roma, sono al lavoro per l'individuazione di una soluzione che possa gettare le basi per la futura gestione della laguna di Venezia. Per una più precisa analisi della vicenda, premetto che bisogna distinguere il piano generale degli interventi, oggetto della Convenzione al Consorzio Venezia Nuova e dell'attuale commissariamento, e il sistema di barriere mobili, cioè il Mose propriamente detto. La concessione riguarda la salvaguardia dell'intera laguna attraverso una serie variegata di interventi. Ciò di cui parliamo oggi è soltanto l'intervento principale, cioè il Mose, cioè le opere alle bocche di porto. Il provveditore interregionale per le opere pubbliche Veneto, Trentino, Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia, ha comunicato che lo stato d'avanzamento dei lavori del Mose ha testato intorno al 93%. Mancano la posa in opera delle paratoie di una bocca di lido, alcune opere civili e la maggior parte degli impianti elettrici, meccanici e di sicurezza vari. La percentuale dei lavori eseguiti è quindi molto alta, tuttavia gli impianti o le stesse paratoie sono propedeutici al funzionamento del sistema. Questa opera particolarmente complessa è oggetto di attenzione sia del mondo scientifico sia della popolazione e di quanti a vario titolo gravitano nella sfera sociale ed economica della città di Venezia. Di conseguenza è necessario analizzare attentamente ogni singolo aspetto, nella massima trasparenza possibile, per evitare finalmente quello che finora non si è voluto evitare, cioè lo spreco di danaro pubblico e il ploriferare di ricorsi che rallentano inesorabilmente la realizzazione delle opere, finendo per gravare sulla tasca e sulla vita dei cittadini. Sempre il provveditore ha segnalato che i cantieri sono praticamente inoperosi dalla fine del 2017 e che nei primi tre mesi del corrente anno risultano spesi circa 12 milioni di euro in totale, tra le cause e anche il contenzioso insorto tra le imprese esegutrici e gli amministratori straordinari. Il costo contrattualmente definito del sistema MOSE, formalizzato in atti e provvedimenti, è pari a circa 5 miliardi e mezzo di euro interamente finanziato. In ordine alla reale condizione delle opere realizzate, il provveditore informa che l'8 febbraio 2018 gli amministratori straordinari hanno trasmesso alla stampa un elaborato che illustra le principali criticità tecniche rilevate e la stima dei presunti costi, paratoie, risonanza, bucche, accumulo, sedimenti, cassoni, giunti, gine d'omega, corrosioni, barre, inghisaggio, elementi femmina, corrosioni gruppi, cerniera, ecc. Tali criticità sono principalmente un esito del troppo tempo trascorso per la realizzazione del MOSE. Il provveditore riferisce che gran parte di esse sono imputabili alla totale mancanza di cura, manutenzione e attenzione da parte del Consorzio Venezia Nuova, che detiene di fatto di diritto la custodia delle opere fino alla loro completa realizzazione e al collaudo finale del sistema. La situazione di stallo venuta si è a determinare ha condotto alla nomina del gruppo di lavoro interistituzionale formato da esperti del Ministero delle Infrastrutture, dell'ANAC e della Prefettura di Roma, come già detto, con il mandato di acquisire elementi informativi e valutazioni in particolare sulla gestione dei finanziamenti istanziati per la realizzazione degli interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia. Il gruppo, sulla base dell'esame e dell'utilizzo delle somme derivanti dalle convenzioni, ha concluso che il Consorzio Venezia Nuova ha impiegato i residui, cioè entrate uscite onere del concessionario, relativi a tutte le convenzioni, anche per esborsi non coerenti con le disposizioni contenute nella convenzione iniziale del 1991. Nei citati residui sono ricomprese somme non attribuibili al compenso del concessionario, ma riconducibili ad incassi per opere per le quali il Consorzio non ha effettuato i relativi pagamenti. In tale contesto, fermo restando che i costi straordinari possano in alcuni casi essere ricondotti ad atti necessitati, emergono comunque nel periodo 2013-2017 costi di struttura, ovvero costi di gestione, per oltre 55 milioni di euro. di cui oltre 37 milioni relativi al periodo 2015-2017, che avrebbero dovuto essere spesati con il compenso del concessionario o con somme messa a disposizione dai consorziati in caso di incapienza e non con denaro destinato al pagamento delle opere. Inoltre, il gruppo di lavoro ha dato evidenza del ritardo della messa a disposizione delle risorse statali e conseguentemente il pagamento dei SAL, stati di avanzamento dei lavori. Delle criticità evidenzate dagli amministratori straordinari nella relazione al Prefetto di Roma per il 2017, tra le quali il ripianamento del disavanzo di esercizio 2014 per 28 milioni di euro, il pagamento di 21 milioni e mezzo di euro all'Agenzia delle Entrate per sanzioni relative ad accertamenti fiscali, ante commissariamento e l'esposizione delle consorziate, anche con riferimento alla restituzione delle somme, oggetto di fatture false, per 40,8 milioni di euro. Inoltre è stato rilevato, per la circostanza in virtù della quale il meccanismo di rendicontazione alla BEI delle opere da finanziare sia di fatto non riconciliabile con i SAL, sulla base dei quali il provveditorato erogava le somme destinate al pagamento delle opere, ha prodotto un disallineamento che, in presenza di un controllo meramente contabile da parte del provveditorato, ha consentito al Consorzio, nel 2014, di effettuare pagamenti ad imprese consorziate per oltre 76 milioni di euro, in maniera di forma le regole previste dal contratto di finanziamento, destinando eccedenza a soggetti già beneficiari di prestito BEI. Tale scelta, i cui effetti economici non sono stati ammortizzati negli anni successivi, ha costituito una delle concause del determinarsi della mancanza di liquidità per il pagamento di lavori eseguiti da imprese non beneficiarie di prestito BEI. In relazione a ciò, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ritenuto opportuna una segnalazione alla Corte dei Conti. Tenendo conto delle opportunità di un approccio che contempli la definizione generale delle attività da porre in essere, con riferimento al completamento delle opere, all'avviamento del sistema e alla gestione dello stesso, obiettivo di questo Governo è garantire la sicurezza e il risanamento della città di Venezia e dell'ambiente lagunare, al fine di un pieno ed effettivo ripristino della legalità. Grazie. Grazie. Il deputato Nicola Pellicani ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. A dieci minuti, prego. Grazie, Presidente. Io ringrazio il Sottosegretario della risposta perché finalmente il Governo per la prima volta ha pronunciato la parola a Mose. Però non posso ritenermi soddisfatto, in quanto ovviamente concordo che bisogna ripristinare trasparenza, legalità, ma in questo senso mi pare che dopo lo scandalo che, come dicevo, ha tanto mortificato e umiliato non solo tutto il Paese, ma in particolare la città di Venezia, e mi riferisco allo scandalo del 2014, il Consorzio è stato appunto commissariato dal Governo in collaborazione d'intesa con l'ANAC. Adesso, per la prima volta, anche finalmente sappiamo che c'è un esito del lavoro che la task force interistituzionale, composta dal Ministero ANAC e Prefetto di Roma, ha messo in piedi e che mostra ed evidenzia le criticità che avevo evidenziato nella mia interpellanza. Ecco, il tema però è che, come ricordava il Sottosegretario, i lavori sono giunti al 93% e quindi manca pochissimo per concluderli e ritengo quindi che ci sia l'intenzione del Governo di arrivare alla conclusione dell'opera, ovviamente nel rispetto della legalità e della sicurezza e della salvaguardia della città di Venezia, ma questo mi pare ovvio e siamo tutti d'accordo. Il tema è come procedere per rispettare quel cronoprogramma indicato appunto dal Proveditorato per le opere pubbliche del Triveneto, in base al quale i lavori dovrebbero concludersi il 31 dicembre di quest'anno e l'entrata in funzione del MOSE, che è l'opera principale appunto del sistema delle opere e degli interventi per la salvaguardia della città di Venezia, previsto tre anni dopo, ovvero il 31 dicembre del 2021. Ecco, perché il rischio concreto procedendo di questo passo è, e le parole come dire al Sottosegretario non mi rassicurano in questo senso, è che i lavori non proseguono, non riprendano e il rischio è che il MOSE resti un'incompiuta con uno spreco appunto di denaro pubblico di 5 miliardi e 700 milioni. Io penso che questo non lo vuole, non le vuole nessuno in questo Paese e fermo restando che bisogna muoversi nel principio della legalità e avere come obiettivo principale la salvaguardia di una città preziosa non solo al nostro Paese ma tutto il mondo come Venezia, io mi auguro che i lavori si possano concludere e soprattutto che il sistema MOSE funzioni e che raggiunga gli obiettivi per cui è stato pensato tanti anni fa, più di 40. Ripeto, io è un'opera talmente invasiva per un ambiente fragile come quello della laguna di Venezia e così costosa che ha messo poi innescato tutto quello che poi ha determinato anche lo scandalo del 2014, ma io credo che giunti al 93% dei lavori sia necessario chiudere e fare in modo che il sistema MOSE funzioni. Mi auguro quindi che questo Governo lavori in questo senso e che al più presto ci dia notizie concrete su come intende procedere per concludere l'intervento. Grazie.